Dopo quasi sei mesi di intenso lavoro, ho concluso la copia della crucifissione di Jacopo Bassano ad olio su tela di centimetri 170 x 310. L'opera originale fu dipinta dal maestro nel 1562 per l'altare maggiore della chiesa di San Paolo a Treviso, oggi non più esistente. Nel 1810 la pala fu trasferita nella chiesa di Sant'Eonisto e dal 1946 si trova nel Museo Civico di Treviso, del quale rimane uno dei capolavori assoluti. Il corpo di Cristo, bianco e luminoso, con il sangue che sgorga e zampilla copioso, risalta sullo sfondo di nuvole buie che intorno a lui si aprono con dei bagliori. La maggior luce scintilla sul suo volto misericordioso. Alla base della costruzione piramidale, quattro figure. La Vergine Maria, a sinistra, con le mani giunte in preghiera, lo sguardo intriso di dolore contenuto. Maria Maddalena, abbracciata alla croce, appare sospinta da terra verso il Cristo, in un anelito di luce. San Girolamo, al centro, penitente nell'atto di leggere le sacre scritture da lui tradotte, la vulgata, che proprio allora se ne era decisa l'edizione ufficiale. San Giovanni, a destra, che contempla la croce, sollevando verso il Cristo, in un grido, il volto sfaccettato dalla luce, con occhi vitrei. La dedica della pala alla Santissima Passione, come al Sacratissimo Corpo del nostro Signore Gesù Cristo, sembra ispirarsi ai decreti tridentini. Una dramaticità tutta interiore, meditata più che sentita, fa di questa sincera contemplazione pittorica l'opera in cui la personalità spirituale del Bassano si è veramente espressa in tutta l'eccellenza dell'arte, che, confessata da lui stesso, il Dio mi ha donato.